Ciao ragazzi, come state? Allora, questo è un haul fatto su Pink Panda che è un po' che non ci acquistiamo da inizi di quando ho aperto il canale, per cui, periodo di marzo, aprile, sì, perché poi ho comprato anche dopo Allora, vi faccio vedere cosa ho sulle labbra, questo rossetto di Bisubio, che è biologico, mi sa che si legge male, è grigio Baci bio, si chiama, questo colore, tanto si vede più sulle labbra, mi sa, mi mando anche i baci, mi faccio anche le smorche E sulle unghie ho questo smalto, che si vede poco, perché è più chiaro di quello che sembrava nella confezione quando ho fatto l'ordine su un ottino, dove avete visto quel set di due smalti della Nysink, vedete? La parte che è più scura, però, sulle unghie è più chiaro, queste sono due passate Cioè, è carino, sì, perché è neutro, sta bene con tutto Però, non è grigio scuro come è nel un flacconcino Allora, vi faccio vedere questo No, giochiamo, c'è un dito È il pacco Vedete? Pink Panda E adesso vi faccio vedere No, non sono prodotti di make-up Perché io ho detto a tante persone che sono in stop acquisti make-up Però, make-up, non accessori Per cui immaginatevi già, avete già capito Chiudete anche il video No, dai, guardate, ho preso delle cose carine Imballate in questa carta Tutta Con scritto Pink Panda Infatti, carina Usate il casino E guardate un po' qui, che amore Eh? Tutte le cose peluciose Lo sapete che mi piacciono le cose peluciose a me? Un pelusce che sembrano di toccare i miei gatti Eh? Troppo carina Poi è lilla, anche se voi la vedete Mannaggia, più rosa Così Scegliamo il cartoncino Morbidissima Della Allora Della make-up Obsession Ce la faccio? Allora, vediamo Vi faccio vedere cosa c'è dentro Cosa ci sarà mai dentro Ma cosa ci sarà mai dentro? Se riesco a capirlo Non riesco a capirlo, mannaggia No, non mi puoi fare questi lavori qua Dai che l'ho aperto Cos'è arrivato Cosa si è incastrato adesso qui? Cosa si è incastrato? Cantiamo una canzoncina Intanto non ce l'ho fatta Meno male, mi è andata bene Se non mi toccava cantare Allora Una beauty blender Verde Che non c'entra niente Con la pochette Potevano metterla infatti rosa o lilla E poi Secondo voi cosa c'è qua dentro? In mezzo alla carta Mi scappare a ridere Perché C'è una cosa più Proprio più Dai Più semplice Diciamo così Io con questi riccioli Cioè nella carta così Mai visto Proprio banale Proprio Va bene Comunque sono pennelli Sono Sette Sette Non mi ricordo più Sette Ne sono dimenticata uno dentro? No Non ho contato male Non sono più capace di contare Faccio vedere I pennelli Sembrano morbidi Questo è il loro manico Con la scritta Make up Oddio Make up Obsession Non sono capace di dirlo Questo qui Adesso faccio una cosa Ritiro fuori qua con voi Così ve li faccio vedere Intanto poi così Li andrò a lavare Praticamente Questo può andare bene Per blush Bronzer Cipria Questo Fondotinta Volendo il blush Poi vediamo ancora quelli viso Cosa c'è Questo per il blush Anche per il bronzer Torniamo intanto la carta Mi finisce tutto intera Qui E poi Sì Dovrebbero esserci quelli Per gli occhi Praticamente sono tre viso E tre occhi Questo per sfumare L'ombretto Questo per Applicare Così vedete Questo per Sopracciglio Per fare Un po' di riga Sfumare la riga qua sotto Piccolino In genere non esomai Così qua va Vi lascio il link Nella speranza che nel frattempo Non siano esauriti Mi dispiace Quando lo vedi mi sono innamorata Secondo voi Di più dei pennelli Della pochette Fatemi sapere nei commenti Non ve lo svelo Fatemi sapere nei commenti Di cosa mi sono innamorata Per prima Allora Mettiamo dentro E vi faccio vedere L'altra cosa L'altra cosa Che avevo già visto Poi tempo fa Ci pensavo Non anche più Per cosa Che sarà esaurita Nell'edizione limitata Estiva Mi sembra Dove l'ho letto Estiva Non lo so Questi Anzi queste Beauty blender Della Real Techniques E C'è scritto appunto Edizione limitata Se mi ricordo Che mi si apre Io prepararmene prima No vero Ah ecco Infatti si apre da sotto E Complicato Vediamo se riesco Di non buttare In terra Così Queste sono le beauty blender Allora Questa quando l'ho vista Ho detto Cioè Non sapevo se ridere O se piangere Adesso vi faccio vedere Cioè È enorme Adesso la faccio vedere Anche di fronte Alle sorelle Cioè È enorme Mi ci metto Il fondotinta Nelle chiappe Questa quando si bagna Se si gonfia ancora di più Ma veramente Mi ci metto il fondotinta Lì Cioè Quando l'ho vista Perché sul sito Non si vede Non si capisce Quanto è grossa È enorme Cioè Guardate Mamma mia Questa è normale Poi si gonfia Vedete Ha il marchio Si gonfia un pochettino È normale Questa ha un altro Un altro tipo Un altro tipo Eh Peccato che Non rende Da lì È leggermente Più rosa Questa E ha un'altra Sembra più Non lo so Come tutta Dei puntini bianchi Sembra più Vellutata Possiamo dire Vedremo Vi farò sapere E più che altro Magari Le userò In Get Red With Me Con voi E vediamo Come si comportano Magari Facciamo la prova Non so Una da una parte Una dall'altra Quella là No Non mi faccio vedere Ma veramente È enorme Questa Comunque È un'offerta Sui 16 euro Qualcosa Invece che Quasi 20 Conviene Conviene Costano Intorno ai 10 euro L'una Questi Scontate 8 16 24 La convenienza C'è Comunque Se trovo tutto Vi lascio i link Sotto E la plastica Vi salutiamo È finito Il video È già finito E niente Fatemi sapere Se Mi piacciono I miei prodottini Facendo così Sì Perché Mi sono Secondo voi Allora Per cosa Ho preso Per la pushetta O per i pennelli Fatemi sapere Un bacio Ciao Ciao